Un saluto a tutti gli amici di Gossip News. Un saluto a Gossip News da Romina Mondello. Ciao a tutti, ciao. Su di loro l'ombra del destino. Questo è il titolo della fiction targata Mediaset che vede i protagonisti Adriano Giannini e Romina Mondello. Diretta da Pier Belloni e girata in Tunisia dove il caldo ha fatto brutti scherzi, in sei puntate regala colpi di scena a non finire, adrenalina, ma anche il racconto del grande amore che lega Lara e Pietro. Ed è singolare sapere che il fascinoso Giannini e la dolcissima Mondello, in passato una passione estruggente, l'hanno vissuta davvero. Ma non è la prima volta insieme sul set, chissà. Con i due attori, gli altri protagonisti della fiction. Sabrina Garciarena, che veste i panni di Teresa, moglie del commissario Pietro, eterea e bellissima. Anna Ferzetti, sorridente ed emozionata. Antonella Troise, con un luca accattivante e lo sguardo sensuale. Marco Leonardi, fascinoso più che mai. E poi le facce simpatiche, anche davanti ai flash di Mimmo Mignemi e a seguire di Arcangelo Iannace. Tutto il cast al gran completo è entusiasta del lavoro fatto e sorride ai fotografi. Del resto, la scommessa la spiega chiaramente Giannini in conferenza stampa. Flueger al Palazzo Famigliare L'Italia